Mette tristezza vedere queste cose, mette tristezza perché tu vedi soprattutto persone adulte, adulte nel senso come è stato detto in servizio, oltre i 50 anni che perdono il posto di lavoro e non riescono a trovarlo. Io frequento, faccio e aiuto persone che sono genitori separati, in particolar modo i papà separati, che hanno gente che non ha più una casa, che dorme in macchina, che magari facevano anche lavori importanti, facevano i manager. Sono diventati poveri. Sono diventati poveri. Il dato della Caritas è che il 64% delle persone vanno a mangiare lì, a prendere un pasto caldo lì, il 64% è costituito da italiani. Questo è il dato. Mi dispiace per i pensionati, perché è gente che ha lavorato una vita, magari purtroppo è gente che il datore di lavoro, perché anni e anni fa non si versavano i contributi e quindi molto spesso i datori di lavoro non li avevano versati e quindi si ritrovano. C'è tanta gente che ha una pensione così, 500 euro al mese, dopo 500 euro al mese non ce la fai.